Ciao a tutti, sono Lara. Oggi per i raccontalibri vi leggerò l'uomini a vento di Gianni Rodari. Giovannino per di giorno, viaggiando in bastimento, capitò nel paese dell'uomini a vento. La gente a prima vista pareva tanto normale, chi col cappello, chi senza e niente di speciale. Ad un tratto però il vento si levò. Quel che vide Giovannino adesso vi dirò. Vide la gente voltarsi, come per un comando, e correre con il vento, correre, fino a quando? Il vento cambiò verso, soffiò in un'altra direzione e con lui si voltarono migliaia di persone. Soltanto Giovannino contro vento camminava, ma si accorse che un passante, con sospetto, lo guardava. Presto, pensò tra sé, fuggi col vento in poppa. Di gente fatta così, ne ho già veduta anche troppa. Vi lascio alle prossime letture. Buona giornata!